Catturati dalla bellezza delle opere di Basilio e Tommaso Cascella, incuriositi dalle installazioni dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, affascinati da gioielli e merletti, primi visitatori della 53esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese, inaugurata ieri pomeriggio e che si svolgerà fino al 27 agosto al Palazzo dell'Artigianato di Via Roma Guardia Grele. Oltre 150 gli artigiani presenti con le loro creazioni, in oro, ferro battuto, ceramica, legno, opere provenienti dall'Italia e dall'estero dell'Associazione Gioiello Contemporaneo. Il presidente dell'ente Gianfranco Marsibilio, nel discorso di apertura della cerimonia d'inaugurazione, ha ricordato il tema dell'edizione di quest'anno, la bellezza delle donne, sottolineando anche la grande partecipazione di artigiani con le loro opere e delle scuole di tutta Italia che hanno partecipato al concorso nazionale di arte orafa Nicola da Guardia Grele. Ringrazio gli artigiani abruzzesi e ringrazio per le bellissime opere che sono state esposte all'interno di questa edizione della mostra. Sicuramente il tema, la bellezza delle donne, il loro coraggio, la loro forza hanno dato coraggio e forza anche alla bellezza di questa esposizione. Sono tante le cose da sottolineare, mi viene in mente l'omaggio a Basilio e Tommaso Cascella che sono maestri illustri delle maioliche abruzzesi, però hanno trovato una buona continuità da parte di tanti ceramisti che operano con le mani, ma che operano soprattutto il cuore. Molti politici presenti, il sottosegretario alla sovranità alimentare Luigi Deramo, il senatore Michele Fina, il presidente della regione Marco Marsiglio, gli assessori regionali Daniele Damario e Nicola Campitelli, i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Fabrizio Montepara, tutti hanno recepito le sollecitazioni di Marsiglio trovandosi d'accordo nel ritenere l'artigianato artistico una risorsa da conservare e promuovere. Guardia Grele, la patria degli artigiani, dobbiamo far sì che quest'arte antica non vada perduta, ha detto il sindaco Donatello Di Prinzio, auspicando anche l'istituzione di un ITS dedicato all'artigianato artistico. Stiamo preparando con la regione affinché possa avere dal governo l'autorizzazione di poter instaurare in Abruzzo un ITS per l'artigianato artistico. Ci stiamo lavorando sopra anche con lente mostra. Molto si è fatto, molto c'è ancora da fare, l'attenzione della regione c'è, lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario. La regione Abruzzo sicuramente ha attenzione per questo comparto produttivo, tant'è vero che l'anno scorso, dopo direi decenni che non si vedeva in regione Abruzzo, abbiamo fatto un bando riservato proprio agli artigiani di 12 milioni di euro, che ha avuto un grande successo, addirittura non siamo riusciti a finanziare tutte le imprese che hanno fatto richiesta, però dimostra un'attenzione su questo comparto che ha problemi, ha luce e ombre, però diciamo che in questo momento sono più le luci che le ombre.